guardando le cose due minuti dopo cioè io il tuo messaggio internet explorer l'ho letto in questo breve istante quando sentirei questo messaggio che ti sto dicendo vuol dire che avrò appena letto il tuo commento pensa a quanto di lei c'è tra la live e te tipo un minuto due minuti una cosa spaventosa per me mi sta trollando comunque non lo so va bene Sergio grazie del poema BF Kha'Zix BF potrebbe essere l'inizio di di una bella avventura Kha'Zix BF bella tia Matt non esiste un massimo delay io il delay dovrei avere tipo pochi secondi di delay allora allora arriverà a nuova era adesso è appena uscito quindi un attimo però arriverà zack 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 allora se mi escono i Kha'Zix e i Kha'Zix giuro che vi faccio void assassin però mi devono uscire questo è lo zack si non è male lo zack per gli assassin uno con lo zack e dall'attac speed dagli altri eh oddio le meme no 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 le meme no non meme thank you no meme today può anche rimanere lì per quanto mi riguarda ah immagino cazzo duro neowest c'è gente col pc di legno in Turchia invece sono tutti ricchi forse di importare di esportare kebab Leo aggiorna comunque aggiorna la pagina perché è impossibile che tu mi veda un minuto dopo cioè non ha senso losing streak insomma no 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 non la prendo niente losing streak no con gli assassin non dare un win streak e prendermi tutti cazzo duro ciao chiara ragazzi fate un po' di blesser energy per chiara fate una preghierina per chiara grazie grazie mille chiara dell'host benvenuti a tutti perché fa tanto schifo fiora perché fa schifo ragazzi perché sono un champ forte champ deboli ed è un champ debole non è che c'è molto da da commentare è un champ debole un po' di pigrine ciao avali come stona nel giro sprega lì in mezzo sta a maniera tft tutti giocheranno di nuovo al lol all'oss non lo so mandolino visto che è appena uscito e metteranno le ranked penso mai perché ci mettono le ranked diventerà una modalità vera c'è gente che abbandonerà l'ol e giocherà tft a tempo pieno io non farò così ma se continua così sicuramente tft sarà una bella strada da prendere visto che mi sento abbastanza discreto a questo gioco non ve lo nego mi sento discreto a questo gioco la gamblaid su kazix eh mi cuore un botto la gamblaid su kazix io la faccio vai vai però vedete non mi sta andando benissimo cioè dove sono i kassadin dove sono i kazix certo rick certo sì vabbè ma sta già a fare gli assassin pure quello ma che è che palle eh sì bella per cassa di nal 2 bella per cassa di nal 2 ma in realtà cassa di nal 2 cioè mi serve all'inizio un po' così in realtà ok questo è un pike mmm gravesal 2 mi serve mi serve un parlone non è che mi serve no lo butto gravesal 2 via via bah andiamo così per adesso din 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 bella noia bella clown come state ragazzi ah misfortunal 2 che bello demon qual'è il problema io non abbandonerò mai jack's ap è il mio pick preferito sac 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 allora cosa voglio adesso vabbè voglio quello che volevo prima vorrei tanto old panties ah quello schinnato minchia la tripla vein potrei prenderla per toglierla a qualcuno però no anzi se la prende è meglio lascia pure che la prendino gli altri così a me escono i kazix piuttosto meglio se la prendono molto meglio blitz only mmm il blitz tienilo graves è tornato leo ragazzi a darmi consigli leo è inutile che mi dai consigli perché se ti leggo due minuti dopo non serve a niente cioè o fai qualcosa per fizzare soldi lei oppure nulla ok picco per secondo per 3 hp picco per secondo mannaggia qua ci serve altro ad ad attack speed ad attack speed che sarebbe più l'ad eh buonotte ragazzi veigar grazie questo qui se questo ha fatto tutto il giro e faceva dall'altro lato era meglio ah sì spike stavo leggendo la chat non ci ho guardato odie 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 cosa abbiamo un cassa di nuau pensavo si fossero estinti ragazzi qua a sto punto a sto punto punto al pike a sto punto punto al pike sì ma eh zed è un po' meglio almeno si buffa da solo un pochino rullo un k ho rullato un k davvero sono così messo ma è il caldo ragazzi è il caldo odio questo spamma le emot eh vabbè sono un po' rincoglionito scusate capitemi capitemi 2 2 già tier 2 questi ah kata sì vabbè ok mi escono tutti gli assassin però forse stiamo un po' esagerando a prenderli tutti vabbè rulliamo ecco il k oh pike ok così e così what tra assassin e nin vabbè sì giusto ok direi che possiamo andare così darius lo buttiamo darius sì lo buttiamo dopo lo buttiamo non adesso fra due minuti leo mi scrive che esatto lo sconami sta trollando leo ok questa è andata meglio o comunque i rexai non li trovo più ragazzi nessuno se li fa e io non li trovo non capisco come mai zed proprio grosso no perché preferisco akali preferisco akali ragazzi mi serve una goccia faccio la come si dice la shojin cioè se mi esce ovviamente non è così scontato non è troppo scontato in realtà chi me la faccia livello adesso ma si poi magari faccio fatica capite quindi questi salteranno dietro a lui mmm ok bravo grazie tenere darius al posto di morte per i buff degli imperiali è vero però ce l'ho all'uno e non mi esce al due al due andrebbe bene darius lo so che farebbe comodo cioè in realtà io non volevo ottenere nemmeno quei mordecaiser è quello il fatto io volevo fare i void però vedete un rexai in giro ragazzi io no io non vedo nessun rexai qua c'avrei un infinity però appai che serve no mi serve la la guinza la sojin su pike anzi doppia goccia ragazzi doppia sojin ho vinto ho vinto diciamo che sto messo bene perché ho vinto rexai ragazzi spariti rexai spariti dove andati io non sapere ma meglio ciò gatti di rexai ma se ti dicessi che voglio vorrei rexai e ciò gatt così fanno anche da brawler tankan di più tu che mi rispondi no spike non voglio dare gli infinity a kazix voglio dare la sojin su spike certo perché saltare nell'altro lato era troppo difficile ok dai butta in 3x4 per carità con gli altri laggo leo ma che connessione che computer hai posso saperlo magari sul plus per sbaglio ah si bordello bordello figa bordello io voglio un darius un darius uno solo niente un darius ah no no ho cliccato due non ho visto anche cosa c'era speriamo la merda mannaggia rengar busta lì eh spike dice che lagga con gli altri amen bella adam finito esami grande tommy ok zed fa fatica contro vane giustamente a meno che non crita ora ha critato oh possiamo permetterci rengar peccato per doppio refresh ragazzi ho trollato lì cioè trollato non l'ho fatto apposta ne è scappato il dito evelyn la voglio no non non tengo né evelyn oh guardate chi c'è pensavo fosse estinto eccolo qua via zedocata oh ma un cazzo di niente raga ma tutte le volte voglio una cosa easy poi non cioè non è neanche di livello non è che mi aspetto un drive a nostro livello oh non esce niente è incredibile sta cosa dars mi fa comodo comunque anche se non vorrei cioè se non lo vorrei in teoria alla fine mi saranno sei assassin altri due void quindi otto e un darius ci sta ma comodo darius come frontlane perché mi dà il buff degli imperiali così va ho succato su darius stesso non è male serve una goccia ho tante eh c'è anche ciogat però mi preferisco dalla goccia che ciogat ciogat poi lo ritroviamo e poi ciogat lo inculano fisso uno due tre gocce abbiamo ciao diego lo so sorot ma prima ho trollato lascia stare poi rollo all'inizio perché voglio che posso trovare solo all'inizio la spatola abbandonata la gente ha capito che non è tutto sto granché la gente ha capito chi se le incula la spatola meglio avere un oggetto forte chi è un champ in più io preferisco un oggetto forte che un champ in più se devo essere sincero cioè se posso fare entrambi ben venga per carità minchia mi pesa buttare via sto ciogat però mi disp ti vorrò sempre bene ciogat ti vorrò sempre bene aspetto lo spazio aiuta a fare le combo lo so fish però c'hai visto il mio modo di giocare ah questo ah perché sto hinting è afk mi sa è afk questo sì vabbè ok ben venga afkerino 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 niente ma aspetto non compro nulla non metto nulla aspetto ranger assassin wild io voglio farla combo 6 assassin allora la mia ideale idea ideale parte darso non riuscirò a metterlo fino al livello 9 perché voglio fare void assassin mia idea ideale sono 6 assassin e 3 void kazix è entrambi quindi 6 assassin di cui kazix più chogatter exai che sono due brawler quindi tankano anche un po' di più cassa di nuovo e lo butteremo via e e poi a livello 9 se ci mettessi un darius farebbe comodo per impire al prosto appunto non lo faccio cioè a me che mi serve non riesco a farlo darius cioè a livello 9 che faccio tengo darius adesso per il livello 9 non ha non ha senso pure qua l'ho bella l'ho mai visto tutto la combo e entri e scelte con il ghiaccio e l'altro secco aia mi disp ok i voido non posso toglierli ok si darius lo vendo raga non mi serve lo vendiamo anche lo trovassi al 2 adesso me lo infilerei su per il culo cioè potrebbe aiutarmi all'inizio con gli imperiali però poi lo darei via per una vela assassine e così prendo un po' di gold in più cassa è meglio di rexai tanka anche più se rimangia il mana quello che attacca puntino hai ragione però rexai rexai fa tankare più se stesso e chogat perché sono due brawler capito per quello altrimenti altrimenti ok ti darei ragione ecco vabbè questo è il vero che ho buttato via io quindi non è magica magia risparmiamo ormai si adesso vado di risparmio non compie più nulla vorrei lascioggi un'altra goccia su pike diventerebbe boh gesù pensavo appena chiuso chiuso la life morris guarda te lo può dire qualcuno forse grande gusto tipo ss quando provano il cibo stampo purtroppo mi intendo a far cagare a me la fanta fa veramente vomitare mi dispiace driven è per carry però non mi piace tanto la sua build non mi piace tanto la sua build non mi piace tanto la build di driven forte però oh guardate lì pipe minchia doppia scioggi in ultra o dopo ogni due autoattacchi il rabadonna kata si potrebbe fare però io ho troppa paura che kata muoia e faccia schifo cioè sono proprio terrorizzato a questa cosa voi volete che dia rabadonna kata secondo voi è meglio a kata o a kali allora morello eh il morello potrei darlo a qualcuno morello ragazzi o rabadonna secondo me il morello è meglio il morello è meglio cioè rabadonna si fa più danno ma questo volete dimettere a kali ecco perfetto potremmo se becchiamo al 3 hp lo facciamo su entrambi ragazzi probabilmente risolto troviamo al 3 hp il morello fa danni in percentuale alla vita e non fa curare giusto spells deal burn damage equal no è il red buff che non fa curare si forte forte ovviamente da danni in percentuale over time anche gun blade a kali lo so si quella è tosto comunque ragazzi io voglio dare un'altra goccia a pike altra goccia a pike questa ci serve potremmo prenderla finchè non ci abbiamo a kali o qualcuno 1 2 3 4 assassin 5 e 6 aspettate chi ci manca ci manca qualcuno 1 2 perchè questo lo tolgo con a kali 2 3 qua ci sarà kali 4 5 grazie scenni manca kali lo so ma kali va al posto di zen ilunga 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 le ilunghe no ragazzi ilunga no 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 ilunga 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 grazie ilunga ilunga dark jungler se non ti piace non so che dirti è il gioco del momento e io lo gioco volentieri c'è una goccia ma è su brand ciao belli proprio prendo della d faccio la g oppure degli hp per il morello forse è meglio della d per fare la gambe su a kali vediamo cosa mi rimane poi la d ok c'è su zwane io vorrei la goccia ragazzi per favore dai lasciate eh ciao invece niente hp uff ecco qua questi è ilungo ok con l'oppia goccia che ha sempre la skill di straffo ah si 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 per carico oh dai discreto però ragazzi questa è la prossima gunblade per a kali oh no oh il no così do il morello anche da cava oh che ne so io gli do quello che capita la domanda è allora ok no perfetto abbiamo tutti gli assassini ragazzi va bene ma anche a kali che la sostituisco a zed ovviamente si cameral però non ho voglia di essere un bambino fastidioso ce ne sono già troppo in sto gioco oh questo c'è una combo cazzo questo mi fa il culo guardate lì che combo e invece e invece signore gli stun di pike gli stun di pike oh sì ti ho ulto io ta 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 ma se facessi no scusate ma se io facessi la gunblade su cata la gunblade su cata sicuro un botto la gunblade su cata ragazzi no no niente la gunblade quando ulta la riequistire full bella scanni bentornato però grazie mille aspetta la goccia io vorrei fare la go ah se fa posso fare o un altro morello e una scioglie vediamo i rapture cosa ci danno ragazzi poi pensiamo ok lola attualmente ha 12 giocatori tanto lei un minuto dopo ci scrive le sue cose ok guarda come saltano su draven vedete ecco qua avete visto come saltano su draven perchè sono saltati su draven e nel game prima non succedeva perchè io ho messo dei tank che non divene che stanno lì davanti e basta e stanno lì davanti saranno anche giocate eh lo so morix lo so però troppo in là cioè avete capito dove è stato l'errore del tizio di prima che con gli assassin non andava su draven perchè allora io ho questi due che non sono assassin gli assassin vanno in stealth ok vuol dire che finchè non saltano non possono essere attaccati se non ci tiene nessuno di questi i nemici stanno fermi finchè gli assassin non riappaiono se io invece sto metto qualcuno divisibile che non sia assassin i tank nemici si sposta in avanti e lasciano scoperti i carry e gli assassin vanno sui carry capito? rollo dopo ragazzi è vero morix però non trovo che sia cioè è molto forte ma è facilmente counterabile secondo me io la vedo così ottimo si 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 la goccia ragazzi ciò gatto ragazzi e spiamo oh ecco qua ecco ecco se si attack speed a pike però non gli serve così secondo me doppia scioggi in pike ragazzi è finita per loro vabbè non fa nemmeno in tempo pike ultra la seconda volta aspe vanno a turni da quanto è facile vanno a turni da quanto è facile raga vi ripeto che io ho già vinto tre game di fila questo è il quarto game let's go let's go let's go Bobby let's go tempo di togliere zed adesso pike all 1 o zed al 2 forse zed al 2 pike al 2 ovviamente cioè a cale al 2 ovviamente mille volte meglio però no non posso mettere a posto Evelynn mi toglie il buff del ninja zed 89 sai quante volte ci sono state queste battute su zed 89 cioè ok ah il tizio di prima questo eh pike non riesce ad ultare comunque fa fatica ad ultare eh pike ragazzi devo cambiare posizione dobbiamo cambiare posizione a pike sennò non ulta contro questo pike è quello che deve andare per primo quindi quello però un po' random devo dire pike deve saltare qui quindi pike devo metterlo qua sotto pike devo metterlo sotto qua l'estimento del centrale sì esatto centrale io aspetto non spendo soldi adesso una rollata niente perfetto miss ci pulisco il culo come carta igienica un miss ora comunque sgommella metterà la cronologia partita non è ancora giunto l'umento di akari al posto o gesù quest'altro pike cosa stai facendo niente pike report pike ok devo mandare fuori sto tizio ragazzi ha rotto le palle c'è i miei assassin se mando fuori lui ho vinto però ho 60 hp minchia cali con la large rod me la serve così su un piatto d'argento ti prego lasciamela tanto il tizio con 60 hp picca insieme a me quindi ecco perfetto quello che avevo detto no sto figlio di puttana ad ap gunblade o ap ap ce l'ho ad vai con ho vinto intendo il primo primo intendo ma quante volte hai scritto oddio no primo sono arrivato primo per 3 game di fila vediamo se riusciamo a fare il quarto adesso questa è una gunblade si pike però ciao che lo faccio al 3 se lì 3 primi 4 no primi 3 penso il podio non è primi 4 no ragazzi ho vinto vuol dire che ho vinto oddio quello gnar cancellatemelo vai pike lo stondi pike il pendolare ragazzi è tipo un treno è tipo i treni pendolare avete presente avanti e indietro oh a scampia se n'è andata usa gli sti item li uso quando saranno meno non osare non ti permetterai mai più di dirmi cosa devo fare mai più mai più questa no titanica andrebbe su qualcun altro però ci pensi a evelyn evelyn allora non posso mettere zed ragazzi non posso mettere zed e akali insieme perché se ne lascio uno quello lì fa il 40% anni in più altrimenti niente buff pike ha voltato poco contro questo quanto è 16 hp speriamo che lo cancelli la è però la sua team comp dà molto fastidio eh ciò gatto ci vuole c'è una bella front aspetto i bambini a dirmi yes 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 cioè se livellassi forse yes andrebbe anche bene no in realtà no in realtà no certo rick esatto yes 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 fievic prendi yes eccoli lì asaki asaki te il tuo pike maledetto fievic adesso ti cacciano fuori contro quell'altro ho easy win però devo cacciare fuori te vedrai pike c'è un problema another morello ragazzi ho capito bene ho capito bene ragazzi boh questa la prendo oh oh another morello one another one ok katane a 1 già basta e avanza preferisco venire a 2 e poi akali è forte raga la sto buildando discretamente facciamolo sentire sto ciogatta al 2 ok a spasso peccato che non l'ho cancellato purtroppo c'ha ancora 2 hp bisogna farlo sparire questo ragazzo la domanda è voglio sparare adesso no non è ancora giunto il momento poi cosa ci guadagnerei gli assassin sono già il 2 questi sono già il 2 akali è forte è ovvio che è forte farebbe come una statica a sto punto su akali paypike al 3 aspetta 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 non mettete in fretta ragazzi so cosa devo fare demon imperial pirate ok mamma mia le ulti di sto ragazzo oh mamma mia pike ragazzi mamma pike mamma pike prendi zwane se mi scappa oh quasi non è zwane questo noble knight no non li voglio puffete mmm c'ho gatta no non ce la faccio a farlo presto andiamo così non voglio spegnere tutti i soldi adesso tanto ho 42 hp quindi non posso per eh daris oddio potrò prendere anche volibir così tancava no vai sti grazie dai pike vai eh si mi dispiace bella la combo di hypercarid riven mi è piaciuta ah no aspetta è il fantasma questo non ha ha vinto ha vinto lui è il fantasma pardon potrebbe ancora farcela ecco ho capito perché mi ha inculato a kali prima l'hai fatto apposta vedete perché non gioco con i sub mi stai preste tutti tutti dal primo all'ultimo proprio anivia me la infilo su per il buccio del culo goccia eh si eh si perché anivia mi dite perché no adesso morix dimmi perché anivia se mi dai una spiegazione buona ci penso tu dimmi perché anivia intanto vediamo se è una spiegazione che vale la pena ascoltare oppure una stronzata per trollare perfetto hai detto una stronzata ovviamente non avevo il minimo dubbio comunque tranquillo non avevo proprio nessuna aspettativa adesso qualsiasi cosa io faccia non cambierà assolutamente nulla nulla un'altra volta al fantasma eh vabbè allora beh la sbattero ma mica ero serio ah beh però se mi spammi qualcosa poi valla a capire chi è serio e chi no vediamo chi vince tra di loro uno dei due va a casa oh ghostex bravo oh con due hp ragazzi se le cavate tranquillo morix tranquillo non importa diciamo che diciamo che il vantaggio dello stream sniping non è proprio così basso se devo essere sincero però però sei stato un ottimo sfidante devo dire che è un ottimo sfidante che è un ottimo sfidante